In una città a Campobasso dove il verde pubblico è affidato alle cure di associazioni di buona volontà e dove gli alberi sono considerati ornamenti in balia di se stessi e della natura che spesso li decima, una sequoia in buona salute che arriva alla bella età di 120 anni è ormai una rarità. Mentre quella di piazza Cesare Battisti è ormai un tronco mozzo con due rametti rinsecchiti e quella del Mario Pagano ogni tanto fa temere che voglia seguire la stessa sorte, la sequoia del giardino del Centro Potito svetta fiera e altera, coccolatissima dalla famiglia che lì l'ha piantata un po' di anni fa e ha voluto aprire le porte ai bambini della Iovine in occasione della festa dell'albero. Noi abbiamo voluto festeggiare i 120 anni di questa sequoia che è nella nostra struttura e che appunto rappresenta un parte integrante degli ambienti del nostro centro perfettamente integrata nella hall centrale, nella reception e nella sala d'attesa principale. La buona salute dell'albero dipende senza dubbio dalle cure che riceve quotidianamente. Ne è sicura la signora Vefa che parla della signora sequoia con tenerezza. La storia dell'albero fa parte della nostra storia perché noi da che l'abbiamo incontrata, diciamo, l'abbiamo amata, l'abbiamo rispettata, le mettiamo i fiori che lei desidera, altri fiori che non desiderano glieli mettiamo, insomma è un orgoglio, un orgoglio ce lo curiamo particolarmente perché è come un emblema della struttura. Di Fanni qui è stato costruito anche sotto, però abbiamo mantenuto tutto rispettato lo spazio, che la prima cosa è il suo benessere. Ne parla come se fosse una persona di famiglia. Ma di fatti, quando qualcosa non deve essere fatta io dico la signora non la vuole. Abbiamo visto i bambini delle quinte della Jovine che hanno abbracciato l'albero, che significato ha? Sì, beh, questo è un significato, è la fitoterapia, è una nuova materia che ci indica e ci dà delle nuove prospettive positive, cioè l'albero è in un contesto in cui deve essere rispettato e ci rispetta. Attraverso questo abbraccio simbolico significa trasmetterci le sue emozioni del passato, ma anche quelle del futuro. Attraverso questo abbraccio simbolico. Attraverso questo abbraccio simbolico.